Da questa ricerca emergono dati significativi in quanto il campione di 1181 studenti che è stato analizzato e studiato fa parte di uno dei territori delle province a rischio di disagio e tossicodipendenza individuati dal Ministero della Pubblica Istruzione, appunto la provincia di Rimini. Il panorama è abbastanza preoccupante perché uno zoccolo duro di studenti, dalle autodichiarazioni, dall'analisi dei dati, risulta essere, se non altro potenzialmente, seriamente esposto a rischio di disagio, tossicodipendenza e demarginazione. Altro dato estremamente significativo è che l'ipotesi su cui abbiamo lavorato, cioè quello di elaborare una strategia di prevenzione e di intervento intorno a un format che lavorasse su canali emotivi e ha dato dei risultati significativi dal punto di vista dell'efficacia della prevenzione e dal punto di vista dell'orientamento sia della ricerca e quindi delle politiche sociali.